Il re e la regina di Thailandia Egli infatti è nato nel Massachusetts E il suo padre ha frequentato la facoltà di medicina all'università di Harvard Il re che in questi ultimi anni si è battuto per l'emancipazione del suo paese È un appassionato suonatore e compositore di jazz Sua moglie, la regina Siri Kit È conosciuta come una delle più graziose e amabili signore orientali Forse anche in virtù del suo fascino questa visita servirà a rinsaldare ancor più i legami Che uniscono gli Stati Uniti e la Thailandia